Un aggiornamento sulla class action, ne abbiamo parlato per anni in attesa che fosse introdotta, ne stiamo parlando da mesi perché come facilmente vi avevo pronosticato la legge come entrata in vigore non serve assolutamente a niente, è la famosa montagna che ha partorito il Topolino, non è certamente un'azione collettiva di tipo americano o anglosassone, è una minestrina riscaldata e senza sale, la nostra non serve a niente, prova concreta qual è? È che oggi dopo un anno che è entrata in vigore una sola sta andando avanti in tutta Italia di queste azioni collettive e oggi è già costata ai ricorrenti qualcosa come 15.000 euro e ammettiamo pure che otterranno il rimborso, sembra che in definitiva il rimborso non supererà i 5.000 euro. Pensate, si è parlato per anni, sembrava l'istituto che potesse finalmente risolvere tutti i problemi dei consumatori, una e costa più farla che quello che si riesce a ottenere in cambio. Se poi fosse con la pubblica amministrazione si sa già in partenza che zero è il rimborso del danno, col privato si può ottenere qualcosa, con la pubblica amministrazione solo l'impegno a non farlo più.